Le anime del purgatorio ci insegnano come fare a ottenere in questa vita il centuplo delle grazie e delle benedizioni. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di questo argomento che credo abbia interessato molti, di cui ho parlato anche in un video precedente, che vi invito insomma a ricercare, a dare una sbirciatina per poter ritrovare. Dunque ricordiamo ecco quello che hanno scritto delle anime del purgatorio vari santi, vari mistici, per capire come possiamo attraverso l'aiuto delle anime del purgatorio ottenere il centuplo delle grazie e delle benedizioni in questa vita. Si narra che un giorno Santa Brigida di Svezia ebbe una visione del purgatorio e sentì la voce di un angelo che consolando le anime ripeteva queste parole sia benedetto colui che vivendo ancora sulla terra soccorre con operazioni e buone opere le anime purganti poiché la giustizia di Dio esige che senza l'aiuto dei viventi siano queste anime del purgatorio necessariamente purificate nel fuoco. E udì ancora altre voci che aggiungevano grazie siano rese a coloro che ci apportano sollievo nelle nostre sventure. La vostra potenza è infinita, o Signore renda il centuplo ai nostri benefattori che ci inducono più presto nel soggiorno della vostra luce divina. Santa Caterina da Siena, la quale ricevette le stimmate come segno della sua perfetta identificazione con il crocifisso, riferisce la descrizione fattale da Gesù riguardo al purgatorio. E se ti volgi al purgatorio troverai ivi, la mia dolce e inestimabile provvidenza, verso quelle anime tapinelle che totalmente perderono in tempo e, essendo ora separate dal corpo, non hanno più il tempo per poter meritare. A loro io ho provveduto per mezzo vostro, di voi che siete ancora nella vita mortale e avete il tempo per loro e, mediante le elemosine e l'ufficio divino che fate dire ai miei ministeri, insieme ai digiuni e alle orazioni fatte in stato di grazia, potete abbreviare loro il tempo della pena, confidando nella mia misericordia. Ecco che un'altra preziosa informazione circa le anime del purgatorio e la loro condizione, come fare per poter meritare e ottenere, grazie al loro intervento, infinite grazie e benedizioni, ci viene da Santa Francesca Romana, la quale ci conferma che Dio accoglie effettivamente le intenzioni di coloro che offrono preghiere e opere di riparazione o di penitenza a beneficio di una determinata anima, a meno che non ci siano particolari motivi per cui queste opere o preghiere non le giovino, ad esempio se una persona non ha mai avuto stima della Santa Messa o ha trascurato di seguirla o di ascoltarla nei giorni di festa. In questo caso, quest'anima non usufruisce dei meriti del santo sacrificio offerto per lei. Santa Francesca Romana ci dice anche che le preghiere, le opere buone offerte dai fedeli sulla terra per una certa anima del purgatorio, tornano subito a favore di quest'anima, ma non esclusivamente a suo favore, bensì anche a favore di tutte le altre in forza dell'intima comunione che esiste tra tutte le anime del purgatorio. Se però quest'anima è già nella gloria, allora il merito delle preghiere e opere buone va naturalmente a favore delle altre anime del purgatorio che sono ancora in pena. Ecco che un'altra testimonianza sulla condizione delle anime del purgatorio e su come fare a poterle aiutare ci viene da Suor Maria della Croce, la quale ci dice che le anime del purgatorio ricevono un grande sollievo da ogni nostra azione che noi compiamo in onore con Gesù. E il buon Dio è sempre disposto ad esaudire tutto quello che si fa con spirito interiore. Quanto più intima è l'unione di un'anima con Gesù, tanto più Dio le concede tutto quello che chiede. E un'anima intimamente unita a Gesù è padrona del suo cuore. Bisogna dunque tendere a codesta unione che Gesù da lungo tempo si aspetta da tutti noi. L'unico modo di fargli piacere è quello di accostarsi sempre di più al suo cuore, prestando grande attenzione ai più piccoli desideri della sua divina volontà. Lasciate che egli faccia di voi ciò che gli piacerà e che non incontri mai resistenza da parte vostra e quando sarete giunta a questo allora vedrete e comprenderete tutta la sua bontà. Quindi insomma carissimi ricapitolando è necessario per ottenere grazie attraverso l'intercessione delle anime del purgatorio far dire delle messe in onore delle anime del purgatorio almeno una messa al mese in cui si chiede a sacerdote di fare i nomi delle anime dei propri defunti, dei propri cari e in generale la si offre per tutte le anime del purgatorio. Poi è necessario anche fare dei digiuni, possibilmente il mercoledì e il venerdì che non si intende solo pane e acqua dalla mattina alla sera perché ci sono persone che non lo possono fare ma dei piccoli sacrifici, delle rinunce, rinunciare in quei giorni, il mercoledì e il venerdì a qualcosa che ci piace e poi bisogna pregare però cercare di essere sempre in stato di grazia. Bisogna quindi essere perfettamente confessati almeno una volta a settimana per poter dire e fare in modo che le preghiere ottengano la maggiore efficacia possibile. Poi essere devoti al sacro cuore di Gesù, io aggiungo anche la devozione ai sacri cuori di Maria Giuseppe quindi ogni primo venerdì del mese, ogni primo mercoledì del mese, ogni primo sabato del mese e come ogni domenica cercare di confessarsi, di partecipare alla santa messa e di ricevere l'eucaristia in grazia di Dio e poi recitare tutti i giorni la corona dei cento requiem in onore delle anime del purgatorio e poi la cosa più importante che io faccio da un po' di tempo e devo dire che mi ha ottenuto veramente delle grazie straordinarie è quella di adottare ogni mese un'anima del purgatorio, sempre una nuova e diversa ogni mese, cioè adesso mi spiego meglio. Quando venite a conoscenza della morte di persone che voi o avete conosciuto personalmente o meno o non le avete mai conosciute, essendo che noi non sappiamo insomma quale fosse la condizione della loro anima al momento del trapasso ed è molto probabile che siano finite in purgatorio perché pochissime sono le anime che vanno direttamente in paradiso e anche se molte sono quelle che vanno all'inferno, comunque cerchiamo, io almeno è una cosa che faccio ogni mese, di pregare in maniera particolare per quella determinata anima che scegliamo ogni mese. Questa preghiera viene fatta attraverso l'orazione di Papa San Gregorio, San Gregorio Magno, in onore appunto di una determinata anima che si trova in purgatorio. Il testo di questa preghiera ve lo riporto in descrizione. Si tratta di dirla tutti i giorni, per 30 giorni consecutivi facendo il nome di un'anima di cui vogliamo avere la certezza che dal purgatorio possa passare in tempi brevi nel paradiso e secondo quella che è appunto la promessa che è legata all'orazione di Papa San Gregorio, il suffragio delle anime del purgatorio, l'anima che avremo nominato mentre leggiamo questa preghiera, sicuramente al termine dei 30 giorni in cui l'avremo nominata leggendo questa preghiera, sarà liberata se si trova in purgatorio dai lacci, da tutte le pene del purgatorio ed andrà in paradiso. Ed è chiaro che questa liberazione porterà con sé moltissimi benefici per noi che chiaramente avremmo contribuito con la nostra preghiera quotidiana a fare in modo che quest'anima raggiunga il paradiso in tempi brevi. Quindi vi raccomando l'orazione di San Gregorio Papa in onore di un'anima particolare del purgatorio che vogliamo portare in paradiso e saremo sicuri che al trentesimo giorno in cui recitiamo quest'orazione l'anima andrà in paradiso e quindi spargerà su di noi per riconoscenza chiaramente tutta una serie di grazie e di benedizioni e tutte quelle di cui la nostra vita ha bisogno e di cui chiaramente quest'anima prende a piene mani dagli infiniti tesori insomma del cuore di Gesù. Quindi vi lascio il testo di questa preghiera in descrizione, ogni mese mi raccomando terminati i trenta giorni adottate ogni mese una nuova anima del purgatorio che può essere potete prendere chiaramente tra i vostri parenti, tra le vostre conoscenze anche tra persone che non conoscete per compiere quest'opera di carità spirituale e vedrete quanto quest'anima una volta giunta in paradiso vi sarà grata di questo atto di carità e sicuramente non mancherà di dimostrarvi la vostra gratitudine con una serie di grazie e di benedizioni. Vi raccomando inoltre la messa mensile per le anime del purgatorio, di offrire la messa ogni mese per le anime del purgatorio e di essere attivi nella preghiera, la recità della corona dei cento requiem e nella partecipazione alla messa e nella recezione dei sacramenti, soprattutto la confessione e l'eucaristia. Bene carissimi, ritorneremo ancora sull'argomento perché questo centuplo e come fare a ottenerlo ci interessa veramente tanto e io vi ringrazio per avermi prestato attenzione, vi ringrazio per la vostra consuetà squisitezza, nella pazienza che avete nel seguirmi e vi auguro una buona e santa serata nella pace e nella benedizione del Signore dalla vostra Annie Brighton. Un caro saluto e un abbraccio. Grazie.